Presso la sede della pubblica assistenza signa già dai primi giorni di marzo abbiamo messo in atto delle precauzioni per contrastare il nuovo coronavirus. All'ingresso troviamo la postazione per la misurazione delle temperature. I volontari ad ogni turno trovano un kit personale di DPI. La sanificazione e igienizzazione dei mezzi e delle attrezzature sanitarie avviene quotidianamente. Siamo sempre pronti 24 ore su 24 per rispondere alle richieste di intervento del 118 e garantire i nostri servizi di emergenza sociali e di protezione civile.